Buongiorno, signore e signori, buongiorno, benvenuti all'auditorium di Santa Giulia. Oggi venerdì 12 novembre, una giornata significativa per noi. Inauguriamo la seconda mostra del ciclo Arte Contemporanea e Diritti, lanciato nel 2019 con la grande mostra di Zeradoan. Avremo anche giorni migliori. Presentiamo oggi la prima monografica di impianto curatoriale dedicata all'artista cinese Badiu Zhao, che avete già conosciuto grazie alla stampa in questo mese di sua residenza a Brescia. Molti di voi lo hanno visto in giro per la città, ha lavorato intensamente con il nostro team nel museo per realizzare quanto vedrete tra pochi minuti dopo questi saluti istituzionali, per i quali lascio subito la parola alla padrona di casa, la Presidente della Fondazione Brescia Musei, Avvocato Francesca Bazzoli. Buongiorno, benvenuti a tutti. Buongiorno, benvenuti a tutti. una collezione permanente di arte contemporanea non può non occuparsi del contemporaneo. perché ci dice moltissimo, lo vedrete, ma parlarne sempre poco, come davvero questa volta guardare, ci dice moltissimo di quella che è la capacità straordinaria del linguaggio dell'arte contemporanea di riconnettere il passato al presente, lo facciamo in operazioni quali quelle di Pizzoli, quali quelle di Pizzoli, quali quelle di Pizzoli, che sono in questo momento visibili a Brescia. profondi della società contemporanea, in questo senso la collaborazione tra noi e il Festival della Pace produce questa attenzione al tema dei diritti che è vivacissimo nel mondo dell'arte contemporanea, diritti e questioni sociali. Bastava andare all'ultima biennale di Venezia per rendersi conto quando questi temi sono uno dei punti di attenzione centrali dell'arte contemporanea, ma lo fa con il linguaggio proprio dell'arte contemporanea, che è un linguaggio che ha in sé una potenza evocativa e capacità di trasmissione dei messaggi assolutamente straordinario. Perché c'è questa potenza così immediatamente rivelante i contenuti messaggi? Perché di per sé l'arte contemporanea ha come elemento costitutivo dentro di sé la libertà di espressione insieme alla creatività, oltre che alla capacità anche manifatturiere dell'artista. Quindi ha in sé i connotati per rendere la vera arte il messaggio che trasmette, per dare al messaggio che trasmette una forza che altri linguaggi non hanno. È per questo che ci occupiamo di arte contemporanea, è per questo che lo facciamo insieme al Festival della Pace e insieme all'amministrazione, che voglio ringraziare moltissimo in particolare quest'oggi del supporto che in questi giorni abbiamo ricevuto da tutti, ma grazie in particolare al Sindaco che fin dal primo momento ha voluto assumersi in prima persona la difesa dell'intera operazione. Grazie. Grazie Presidente. Grazie anche da parte del nostro staff che ha fortemente collaborato a questa mostra. Questi progetti sono progetti corali, si realizzano con il contributo di molte competenze diverse, interne ed esterne, ma tutte sono state motivate da questo programma così importante e forte. Programma che rappresenta anche l'offerta di punta del Festival della Pace, giunto alla quarta edizione. È un progetto questo che la città sente molto fortemente, lo ha detto la Presidente, e la cultura in città è rappresentata dall'assessore Laura Castelletti, a cui lascio la parola. So che sei diventata anche amica di Baggio Tsao in questo periodo. Allora, buongiorno e benvenuti a tutti. Mi piace sottolinearlo sempre quando ci ritroviamo in questa sala. Siamo nel complesso monumentale di Santa Giulia, patrimonio riconosciuto dall'UNESCO nel decennale di questo riconoscimento. Quindi è un luogo importante per noi e importante anche perché è il luogo che accoglie la mostra e valorizza il lavoro di Badi. Perché, come diceva il direttore, è diventato Badi per tantissimi di noi. Lui è in città da quasi un mese e averlo qui è stata un'opportunità importante, non solo per la mostra intensa, potente, che visiteremo tra non molto, ma è stata l'occasione per metterlo in dialogo anche con i ragazzi e le ragazze delle scuole, delle accademie, con gli insegnanti. Perché il linguaggio dell'arte, della difesa dei diritti e della creatività è un linguaggio che deve essere trasferito alle nuove generazioni. Averlo qua credo ci abbia aiutato molto anche a comprendere quanto sia difficile per noi, che siamo abituati a vivere in pace, in libertà, in democrazia, la capire che cosa accade davvero in altri luoghi e paesi del mondo. È vero che vediamo che cosa sta accadendo ai confini dell'Europa, vediamo che cosa accade in Medio Oriente, vediamo che cosa accade in luoghi lontani come la Cina. Ma quando il racconto è un racconto diretto, il racconto di un dissidente, il racconto di una persona, di un artista che non può più esercitare nel suo paese, che non può più usare il linguaggio dell'arte per difendere i diritti, è qualcosa che colpisce, che ci avvicina molto. E il tema della vicinanza e il tema della pace sono importanti. Questo mi fa dire anche che l'intuizione due anni fa del presidente Cammarata ad invitare all'epoca, ricordate Zeradoane, è stata la prima artista che nell'ambito del Festival della Pace ci ha raccontato che cosa vuol dire difendere i diritti della creatività e dell'arte. Quindi è importante questo messaggio, è importante accendere i riflettori su questo tema. Abbiamo visto che la nostra città in queste giornate, proprio grazie alla mostra di Badi, è stata attraversata dalla presenza di tanta stampa nazionale e internazionale. Quindi abbiamo acceso con forza, attraverso il Festival della Pace, il tema della difesa dei diritti. E aggiungo un'ultima cosa, l'ho detto prima anche incontrando i giornalisti, io sono orgogliosa di appartenere a un'amministrazione, di appartenere a una città intera, perché questa è stata la risposta della città, una città intera, un'amministrazione che non si sono fermate davanti a una ingerenza, ma hanno scelto di inaugurare oggi questa mostra. E anche questo è un segno forte che per noi la pace e la difesa dei diritti non sono parole, non sono i bla bla come qualcuno dice, ma sono un esercizio che è un esercizio quotidiano. Grazie, grazie Assessore. In effetti questa operazione culturale non è stata semplice. Potete certamente immaginare la complessità organizzativa. L'artista è esule da 15 anni in Australia, si è formato a Shanghai, dal 2006-2007 ha deciso di dedicarsi all'arte abbandonando gli studi in legge. Aveva scoperto che cosa era avvenuto a Tiananmen nel famoso massacro in quel giorno dell'89. Lui era molto piccolo ovviamente, non poteva saperlo, poi la censura cinese ha completamente coperto in Cina il ricordo di questo avvenimento. Guardando un film clandestino ne è entrato in contatto e ha deciso di utilizzare la sua grandissima capacità artistica. Lo vedrete in mostra, è un artista multi-oggetto che riesce a lavorare con la matita, con gli oli, con la grafica, col computer, con le installazioni. È veramente un creativo a tutto tondo, una grande mano espressionista, che è riuscita, ha deciso di dedicarsi alla sua arte piegandola alla denuncia sociale. Ha però dovuto evidentemente abbandonare il proprio paese, dove lui e la sua famiglia sono stati oggetto di minacce e si è appunto riparato in Australia. Dunque è un artista molto particolare, è un artista che dovrebbe lavorare nella strada, a contatto con le persone, facendo installazioni, opere di arte pubblica, facendo opere di street art, ma che non lo può fare nei luoghi dove quell'arte servirebbe perché vi è la repressione. E quindi si è inventato un'arte digitale. Realizza dei lavori ibridi, misti, in tecniche miste, molto spesso lavora partendo dal digitale, perché poi questo materiale deve essere veicolato attraverso internet. Grazie a internet, grazie alle piattaforme, quelle legali e quelle clandestine, lui riesce a trasferire le sue opere, che poi vengono spesso stampate dagli attivisti, un po' in qualche modo facendo il verso all'iconografia di regime che, sapete, porta in giro le grandi immagini dei dittatori nelle manifestazioni di piazza. Ecco, molte sue opere sono state utilizzate dai manifestanti a Hong Kong, per esempio, negli ultimi anni, in processione, come se fossero dei ritratti di grandi dittatori. Vedo intanto che ci ha raggiunto la curatrice Elettra Stambulis, stavo intanto riempendo il tempo sapendo che eri con i giornalisti, care Elettra. Elettra Stambulis è l'animatrice artistica, scientifica di questo dossier di mostre, che è partito con Teradoan e che speriamo non sia finito. Quest'anno però abbiamo questo grande progetto che parte nei giorni del Festival della Pace. Il Festival della Pace è alla quarta edizione. Il suo Presidente, nonché Presidente del Consiglio Comunale, è il Professor Roberto Cammarata, a cui cedo subito la parola. Grazie Stefano e benvenuti a tutti. È davvero un piacere oggi inaugurare questa mostra nel giorno in cui più tardi, alle 16.45 in Palazzo Loggia, inaugureremo la quarta edizione del Festival della Pace. Il Festival in questi anni è cresciuto, è diventato sempre più un contenitore di tanti linguaggi con cui stimolare e a volte anche provocare il pensiero, il pensiero critico in modo particolare, il pensiero sui tanti grandi temi di carattere appunto critico della contemporaneità, collegati a vario titolo alla pace. Uno di questi linguaggi e uno di questi temi, in realtà diversi di questi temi, li troviamo con la mostra di Badiou Cho. È il tema della relazione fondamentale fra libertà di espressione e pace. È una cosa che non ci siamo inventati noi, ma per certi versi abbiamo un precorso, quando l'anno scorso, due anni fa anzi, abbiamo voluto iniziare questo percorso con la bellissima mostra di Zeradogan, abbiamo precorso quello che è avvenuto poche settimane fa con la consegna dei premi Nobel per la pace a una giornalista filippina, Maria Ressa, e al reporter russo Dmitry Muratov. E la motivazione di questa consegna del premio Nobel per la pace era esattamente per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e la pace duratura. Ecco, questo link così necessario, così fondamentale fra libertà di espressione e pace, sarà un filo rosso che da oggi, che inauguriamo il festival, ci porterà fino agli ultimi giorni del festival. Cito un evento tra i tanti che sono dedicati in qualche modo a questo tema, a questa relazione fondamentale. Il 25 di novembre abbiamo deciso insieme al coordinamento provinciale degli enti locali per la pace, Bresciani, di aprire un nuovo fronte, che è quello dell'assegnazione di un premio Brescia per la pace a personalità, a soggetti, istituzioni, movimenti che in qualche modo si sono distinte per la loro attività e presenza per la costruzione della pace nel mondo. E quest'anno il coordinamento enti provinciali per la pace ha deciso di assegnare a questa sorta di premio zero, Brescia per la pace, a Patrick Zacchi. Per me è molto bello che iniziamo oggi con le opere di Badiuciò, che ci butteranno a piene mani dentro questo tema, e di chiudere in qualche modo il festival con l'assegnazione di un premio che ovviamente non potendo lo consegnare direttamente nelle mani di Patrick Zacchi, perché come voi sapete è detenuto da più di un anno e nove mesi nelle carceri ediziane solo per aver espresso la propria opinione e il proprio libero pensiero, non potendolo fare direttamente a lui, lo faremo nelle mani del presidente di Amnesty International, Riccardo Nouri, il portavoce nazionale di Amnesty International Italia, Riccardo Nouri. E quindi il tema della connessione tra libertà di espressione e pace, ma non solo, questa mostra, vi dicevo, ci porterà a indagare, a riflettere, su tanti temi come quello del rispetto e delle violazioni purtroppo dei diritti umani delle minoranze, come quello delle forme nuove di dissidenza e di rivolta non violenta ai regimi liberali sempre più presenti nello scenario globale. E quello del rapporto tra verità e politica, tema caro tra gli altri ad Anna Arendt, nel mondo contemporaneo delle fake news e della cosiddetta post-verità. Vedrete quante opere di Badiou-Ciou ci porteranno a riflettere esattamente su questi temi. Ma c'è un punto con cui io voglio chiudere, anche con voi, come ho fatto prima con la stampa, perché nell'aprire il catalogo, che vi invito poi ad avere, ad acquistare, perché è veramente straordinario, nell'aprire il catalogo c'è un'immagine che vedrete esposta in mostra, un'opera a matita, mi dicevano, di Badiou-Ciou, che rappresenta Alan Kurdi. Alan Kurdi io so che voi ve lo ricordate, ma purtroppo fuori di qui pochi forse se lo ricordano. Alan Kurdi è quel bambino di tre anni, siriano, che è stato trovato morto, riverso sulla sabbia di una spiaggia, nel tentativo di raggiungere con la sua famiglia l'Europa. Noi vogliamo dire che, siccome questa opera si chiama Forgotten, dimenticato, io voglio ringraziare Badiou-Ciou per questa opera e questo titolo, perché noi con lui e con il Festival della Pace vogliamo dire chiaramente che non vogliamo dimenticarci di nessun Alan Kurdi di questo mondo e non vogliamo che passino nel dimenticatoio o, peggio, nell'indifferenza le tante situazioni di violazione dei diritti della democrazia e della pace sul nostro pianeta. Per cui il Festival della Pace è e vuole essere questo, un grande strumento di pensiero, di stimolo del pensiero e un grande strumento contro l'indifferenza. Grazie. Grazie, Professor Camarata. È stata citata, Amnesty International patrocina questa mostra insieme all'Associazione Genesi e la mostra gode anche dell'alto patrocino della Presidenza del Parlamento europeo. Quindi è anche un evento a suo modo dalla istituzionalità molto elevata. Elettra Stambulis, la curatrice di questo progetto, è curatrice d'arte e di fumetto. E qualche motivo per comprendere questo collegamento lo avrete in mostra. Si è occupata per molti anni di organizzazione culturale, di arte e fumetto e ha curato anche la prima mostra della grande disegnatrice Marianne Satrapi in Italia con i suoi originali. Collabora con molte riviste ma ha sviluppato una competenza specifica proprio nel terreno a cavallo tra l'arte contemporanea e la dissidenza, la denuncia sociale. Lascio dunque con piacere a lei la parola ringraziandola per il contributo che sta dando in questi anni di collaborazione alla Fondazione Brescia Musei. Buongiorno. Mi tolgo un attimo una mascherina. Sì, scusate. Ormai siamo mascherati tutti. Sapete che anche Badiuccio è stato per forza di cose mascherato per tanto tempo. Adesso capiamo quanto è scomoda la posizione del mascherato. Non è una scelta semplice. Avete una grande ricchezza qui a Brescia che sono questo luogo, questa incredibile eredità, questo importante fardello che portate perché è chiaro che essere gli eredi di una città che porta i segni di due millenni di storia non è semplice. immagino che non sia semplice. Questo però non toglie che guardiate al contemporaneo, al mondo, a quello che accade. E questa seconda mostra apre lo sguardo a quell'Oriente che sembra sempre così lontano, sempre che non ci riguardi. Ma avete visto quanto invece ci è vicino e quanto ci riguarda anche proprio nella nostra libertà di esprimerci e di mostrare e di fruire della bellezza. La Cina non è vicina è un progetto che dà l'opportunità alla città di Brescia, agli visitatori, ma anche con un'attenzione, devo dire, internazionale perché di questa mostra hanno parlato giornali, riviste al di là dei confini nazionali, e non è un caso, di vedere un'antologica di un artista, artivista, che opera da circa dieci anni. Quali sono i temi e i quesiti con cui io spero usciate dalla mostra? Perché dovete sapere che gli artisti non possono dare risposte, non sono loro a trovare le soluzioni. Le soluzioni le devono trovare i politici, i decisori politici. Gli artisti, come obiettivo, quando sono, come dire, artisti che si pongono loro delle domande, è di prendere quelle domande e di consegnarcele, di rendere la materia incandescente, di far sì che noi usciamo senza indifferenza, non devono edulcorare la realtà, la devono rendere urticante. Allora, quando uscirete da questa mostra che richiede molta attenzione, che richiede di documentarsi un po', perché parla di luoghi di cui magari non sappiamo molto, li abbiamo sentiti menzionare, ma non ci sono appunto vicini. Le geografie sono molto disturbate ultimamente. Noi abbiamo Google Maps, ma sappiamo meno di geografia di un po' di tempo fa, perché pensiamo di poterci orientare seguendo una voce nel telefono. Invece per orientarci nel mondo c'è bisogno di maggiori quesiti, di maggiori attenzioni. Quindi queste geografie, queste architetture geografiche che vedrete dentro la mostra, vi porteranno a tanti quesiti. Il primo quesito è nel titolo, che vedete così un po' ambiguo. È vicina o non è vicina sta Cina? Non lo sappiamo. È ovviamente un calco di un titolo famoso, di un film di bell'occhio del 1967, che arrivò secondo alla Biennale, alla mostra di Venezia, a pari metri con un altro film, di Jean-Luc Godard, la cinese. Entrambi affrontavano un modo diverso, completamente diverso, però qualcosa che era arrivato in Europa, che era il maoismo, e che aveva interessato tantissimi giovani, aveva coinvolto tanti soggetti. Quindi se nel 67 il maoismo è stato tra di noi, se ne è mai andato? Che maoismo c'è adesso? Che attenzione abbiamo noi verso questa Cina? Non lo sappiamo quanto è vicina e quanto è lontana. Quindi io spero che voi usciate con tante domande, più di quelle che avete adesso, e che vi portiate a casa l'intenzione di fare qualcosa. Badruccio propone anche delle pratiche. Vedrete per esempio il suo thread di Twitter, vedrete come opera un artista che vuole dialogare con la realtà che lo circonda. Più Twitter, meno Facebook. Questa può essere, come dire, un'eredità che ci lascia Badruccio. Io ringrazio moltissimo i musei di Brescia, ringrazio il sindaco e la sua giunta per la collaborazione, per il sostegno non così, come dire, iconico, dato a questo progetto, e spero che questo coraggio che questa città ha mostrato duri nel tempo. Grazie. Badi, ormai siamo diventati amici perché un mese di residenza significa tanto tempo insieme, pranzi, cene, trasferte con me, ma soprattutto, devo dire, con il meraviglioso staff con cui Badi Uzzau ha creato una vera e propria amicizia, credo. Che esperienza è stata lavorare con noi e come ha cambiato il tuo prossimo futuro, perché tu sei un artista già prolifico, ma molto giovane, con delle battaglie enormi ancora da combattere. Tu hai vinto l'anno scorso il premio Vaclav Havel per gli artisti dissidenti, ti è stato consegnato poche settimane prima di arrivare a Brescia da Gary Kasparov della Human Rights Foundation americana. Quindi sei... è un premio che normalmente viene insegnito a persone, viene dato a persone che hanno anche una maturità maggiore. Hai una grande responsabilità, addosso. Che cosa dobbiamo aspettarci dopo questa mostra? Quali sono i tuoi prossimi progetti artistici? Credo che il pubblico che, dopo questa nostra introduzione, visiterà la mostra sarà mosso da questa curiosità. Le mostre sono sempre un inizio e poi come finisce la storia? Quando gli artisti sono viventi c'è un domani. Grazie. Grazie a tutti che venivano qui oggi. È bene, è bene. È bene. È bene. Grazie a tutti per essere qui presenti quest'oggi. e mi reputo davvero molto onorato di essere qui ad aprire questa mostra a Brescia ed è un vero e proprio privilegio per me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e il museo e la fondazione di museo per difendere i miei diritti anche se questa esibizione è subjecta a threat dal governo chino, dalla embassia chinesa, dai propagandisti nazionali e alcuni nazionalisti. Il comune di Brescia e tutta la città hanno fatto per me, per avermi aiutato e sostenuto nell'organizzazione di questa mostra. Mi hanno difeso e tutelato nei miei diritti, nonostante le minacce pervenute da parte dell'ambasciata cinese e da propagandisti e da folli nazionalisti che hanno cercato di fermarla. Ma voglio ringraziare di cuore anche il governo cinese perché senza le sue minacce ebbene non saremmo diventati così famosi e non sarebbe diventato famoso anche il suo modo di operare con la sua propaganda e pubblicità. I also like to thank the Chinese government because they helped me to complete this exhibition. Their threats illustrated very clear to everyone here, to the citizens in Italy, to the residents in Brescia, that how different the Chinese government is dealing with is the reality, and how scared they are afraid of art. E voglio anche ringraziare il governo cinese altresì perché mi ha aiutato a completare l'allestimento di questa mostra, perché con le sue minacce ha dimostrato a tutti quanti noi, non solo qui a Brescia, ma in tutta Italia e forse anche nel mondo, quanto trattino diversamente i temi della realtà e dell'arte. This exhibition is not just about criticising the Chinese government, but it's also about celebrating a lot of brave Chinese people are there to speak up against this authoritarian regime. And also I want to show and highlight the Chinese people here in Italy, that we have so many extraordinary young Chinese who are second generation of migrants, who actually help on this show, help on this exhibition. E inoltre desidero ringraziare per l'organizzazione di questa mostra che non solo critica e presenta una critica al governo cinese, ma dà voce e mette in luce il grandissimo coraggio delle cittadine e di cittadini cinesi che vivono all'interno e all'esterno dei confini perché osano e hanno trovato il coraggio di parlare ed esprimere le loro opinioni. Desidero quindi ringraziare anche i cinesi di seconda generazione che vivono qui in Italia perché anche loro mi hanno aiutato nell'organizzare e all'estire questa mostra. For the future, I do hope this exhibition could open a door for me to the bigger contemporary art scene because for so many years that I do not have a proper opportunity to show my practice other than political cartoons online. So I do hope this exhibition will bring me more opportunities in the future to having proper exhibition. In most cities in Italy, in most cities in Europe, in most cities around the world. Per quanto riguarda i miei progetti futuri, ebbene mi auguro che questa esperienza qui a Brescia mi possa aprire le porte per far conoscere il mio lavoro come artista anche oltre la mostra stessa qui di Brescia e che mi permetta di essere un artista che cominci a potersi affacciare alla scena internazionale artistica perché fino ad ora non ne ho mai avuto la possibilità. Mi è sempre stato negata questa opportunità. Se non fosse per la mia attività di vignettista online non avrei potuto acquisire molta notorietà. Dunque mi auguro che in futuro sempre più persone italiane, europee e del mondo mi conoscano come artista. In the meantime, I'll keep exploring other unconventional media or platforms like the blockchain technology, like NFT art. And also I'm highly interested in making publishing books, comics, graphic novels. All this project are being planned or already started. So there will be an interesting future waiting for me. And also I hope this will be a lot of interesting work waiting for you. Thank you. Inoltre in futuro io continuerò il mio lavoro d'artista che pone l'accento e dà attenzione a tutte quelle piattaforme non convenzionali che sono attive in questo mondo contemporaneo. Quindi mi occuperò di affrontare quella che è la piattaforma della blockchain e anche l'arte degli NFT. Per il futuro ho anche intenzione e continuerò la mia attività di cartoonist, vignettista, scriverò delle graphic novel e mi auguro che ci potrà essere un continuo sviluppo di interesse per il lavoro che svolgerò nel futuro. Grazie. Grazie, grazie Badi. È un onore per noi aiutarti in questo percorso qui in Italia e in Europa. Grazie. Tutti i nostri progetti hanno una storia editoriale. Le mostre sono dei grandi, come dire, circhi effimeri. Portano, aggregano opere, aggregano competenze, esperienze, installazioni, ma poi inevitabilmente proprio la loro peculiarità è quella di durare 3-4 mesi e poi rimane un ricordo. Ecco, il ricordo, grazie ai cataloghi, in particolare oggi abbiamo in mano, è arrivato stamani come spesso succede e giustamente succede, fino all'ultimo si deve poter mettere mano soprattutto a un progetto di questo tipo. È arrivato il catalogo di questa bellissima mostra ed è arrivato anche, e non è cosa usuale, questo vi spiega quanto questo progetto ha cattivi anche al mondo culturale, è arrivato insieme al suo editore. Quindi ringrazio il dottor Massimo Vittazelman, a cui lascio la parola, che ci raccontava prima anche un aneddoto interessante sulla storia di alcune pubblicazioni in Cina. Grazie. Come dicevo poco fa agli amici della stampa, accorsi non per caso anche da fuori Italia, Brescia deve essere particolarmente grata alla fondazione, alla qualità e all'organicità del suo disegno e a questa amministrazione che lo sostiene, perché stanno riportando questa città al posto che le compete, che è quello di essere una delle capitali dell'arte e della cultura, anche sul piano internazionale. E questo non solo sulla base dei suoi due millenni di storica tradizione, ma anche per come si inserisce nel dibattito contemporaneo. Quando vedrete questa mostra rimarrete colpiti, penso come me, dal suo messaggio, dalla molteplicità e dalla creatività dei linguaggi, ma soprattutto da ciò che rappresenta sulla scena internazionale, e cioè un capitolo di quella grande battaglia per la libertà di espressione, per la libertà di denuncia, per la libertà di dissenso, che tutta la grande arte internazionale deve combattere e sostenere. Come diceva l'amico direttore Karajov, i cataloghi hanno una funzione di accompagnamento del visitatore attraverso la visita, diciamo così, ma hanno un ruolo più importante per tramandare la memoria di eventi che per loro natura sono effimeri e anche per farli conoscere attraverso la distribuzione italiana e internazionale anche in distanza dal luogo dove si svolgono. Ecco, credo che in questo caso questa seconda mission sia particolarmente rilevante e noi siamo particolarmente felici e particolarmente onorati di partecipare a questo momento così importante nella difesa della libertà di espressione nel mondo e complimenti a questo artista indomito che in tanti modi continua a combattere la sua battaglia. Grazie. Grazie al presidente di Schirà, Massimo Vita Zelman. Piccole informazioni tecniche perché lascerò ora la parola per il sigillo di questa inaugurazione al sindaco della città. Al termine di questa, diciamo così, prolusione ci sposteremo attraverso gli spazi del museo per raggiungere gli spazi espositivi temporanei. Ci sarà ovviamente l'artista con noi, ci saremo anche noi, ci sarà poi anche un piccolo buffet. Se sarete interessati, domani pomeriggio alle ore 16 è prevista una performance interattiva dell'artista nella nostra white room, intorno al tema della violenza sull'infanzia e delle vittime innocenti. Domenica invece, nello spazio della mostra, l'artista leggerà fino a sfinimento fisico i diari di Wuhan. Scoprirete in mostra che cosa sono i diari di Wuhan. Infine il 17, mercoledì, chiudiamo questi eventi inaugurali con un talk insieme a Clarice Pecori-Giraldi, che è la curatrice della collezione Genesi, una collezione interamente dedicata ad artisti contemporanei intorno al tema dell'arte per i diritti, attualmente in mostra alla Villa Panza a Varese. Ringrazio nuovamente, prima di lasciare la parola, tutti i collaboratori di Brescia Musei. Dovrei nominarne moltissimi, quindi fate conto che ringrazio tutti ugualmente, sono nel colofon di questo catalogo e della mostra. Siamo veramente una squadra molto affiatata e hanno dato veramente il sangue, non quello vero, che troverete in mostra di Badi, che fa parte di un'installazione molto violenta, ma il sangue, insomma, metaforico dell'amore per il proprio lavoro. Poi ringrazio anche il personale del museo, perché questa mostra sarà anche complicata, probabilmente richiederà maggiori cautele e li ringrazio in anticipo. Ringrazio le istituzioni di pubblica sicurezza cittadina, in particolare la Questura e le forze di polizia, che sono anche oggi con noi. Lascio quindi la parola al primo cittadino, il sindaco di Brescia, avvocato Emilio Del Bono. Quanto è vicino a Wuhan, noi lo sappiamo bene a Brescia, quanto la Cina sia stata vicina, perché evidentemente una sorta di contrapasso, di connessione storica tra questa mostra e quello che ci è capitato in questi due anni, lo leggerete nella mostra quando la visiterete. Ho detto prima che i confini sono nazionali e i diritti umani sono universali. In realtà questo concetto che pensavamo fosse acquisito dal mondo, nel mondo, non è più così acquisito. Noi abbiamo visto un'evoluzione dell'idea di universalità dei diritti umani, dentro i quali c'è la libertà di espressione, di opinione, di manifestazione e tutti gli altri diritti fondamentali dell'uomo. Dal 1948, cioè dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, questo sembrava inevitabile, decennio dopo decennio, che l'universalità di questi diritti, anche a chi li combatteva, anche per chi li combatteva, non potevano che essere considerati universali. Da qualche anno un ritrovato nazionalismo aggressivo contesta il concetto di universalità dei diritti dell'uomo. Perché la sovranità e la definizione dei diritti fondamentali rimane nel confine nazionale. È una grande sfida del XXI secolo. Cioè, riusciremo a difendere l'universalità dei diritti dell'uomo? Cioè, riusciremo a fare in modo che ciò che è scritto indelebilmente, speriamo indelebilmente, nella dichiarazione universale del 1948 dell'ONU, non cada sotto il piccone inevitabile di un secolo che si è aperto e che ha messo in profonda contestazione l'idea che i diritti liberali indicati in quella carta universale siano i diritti che rimangono validi per tutti. Siccome il linguaggio del diritto non è sempre un linguaggio facile e non è neanche un linguaggio molto popolare e non è neanche un linguaggio che entra nel cuore e nella testa di tutti, tutti vuol dire dalla signora che lavora nella campagna più sperduta del mondo fino ad arrivare all'intellettuale di una grande città occidentale, l'unico linguaggio che buca e che fa capire quanto i diritti umani siano universali è quello dell'arte. Perché quello è diretto a una capacità di essere compreso da tutti senza aver bisogno di un'infrastrutturazione culturale che invece il diritto necessita, ma anche determinati concezioni filosofiche, culturali determinano. L'arte no, l'arte ti arriva dritta, quello che vuole dirti lo comprendi in termini potenti. Ecco perché mi è capitato di dire che gli artisti sono pericolosi, sono a volte più pericolosi degli uomini del diritto, anche quelli che combattono e che difendono i diritti universali da posizioni di difesa dentro le istituzioni e dentro i tribunali. E quindi siccome sono pericolosi gli artisti, sono anche ovviamente fortemente contrastati, perché riescono a bucare i confini nazionali, cioè riescono a parlare ad un mondo molto più ampio che non è solo quello dentro la propria nazione, il proprio paese. Così è capitato anche al nostro artista che ospitiamo, così era capitato a Zeradoan due anni fa quando ha fatto la mostra dopo la sua incarcerazione in Turchia. Noi dobbiamo fare questo lavoro, cioè rimanere una città che parla un linguaggio universale e quindi che non ha paura di confinare, che non si sente costretta di essere confinata nel proprio perimetro, che parla un linguaggio dove il mi prendo carico e me ne occupo riguarda una dimensione internazionale e non solo locale. Questo è un compito che Brescia ha sempre avuto e che non vuole smarrire. Quindi questa mostra è anche un po' il tributo di quello che siamo noi, cioè del cammino che abbiamo fatto, che questa città ha fatto nel corso dei decenni, ha ospitato dissidenti dell'est europeo prima che il muro di Berlino cadesse, ha ospitato letterati, poeti, filosofi, artisti, cioè tutti coloro che con il loro linguaggio riuscivano a parlare a nome dei loro cittadini fuori dai propri confini. Quindi io auguro a Badiuciao, poi ognuno lo pronuncia, non ho capito, a seconda della sua inclinazione, io mi auguro che il suo cammino continui, perché attraverso il suo linguaggio un Occidente impigrito e molto inconsapevole delle sfide che il XXI secolo sta aprendo, si svegli, cioè comprenda effettivamente che la tenuta dell'Europa e degli Stati Uniti e di quei paesi dove faticosamente la democrazia regge, deve sapere questo mondo, questo pezzo di mondo, che non è la democrazia un dato scontato, e per sempre. Il XXI secolo è una sfida potentissima per le democrazie occidentali. Il linguaggio che i dissidenti che vengono da mondi dove questi diritti sono conculcati o sono limitati, ci aiuta ad essere anche molto più consapevoli dei rischi che corriamo e anche molto più grati della condizione nella quale viviamo. Ha detto giustamente Badi, come lo chiama Laura Castelletti, che in queste giornate si è trovato molto bene nella nostra città, si è sentito a casa. Guardate che casa non è solo un problema di aver vissuto bene o mangiato bene o aver avuto delle belle interlocuzioni. Sentirsi a casa vuol dire sentire che c'è un luogo nel quale la tua persona viene valutata per quella che è nei suoi diritti fondamentali e nella sua espressione di umanità. Questo è molto importante che noi non lo perdiamo mai. quindi bocca al lupo per questo lungo viaggio che spero potrà fare Badi anche nei decenni a venire. Bene, grazie grazie al signor sindaco un po' del nostro staff vi aiuterà andremo in un paio di gruppi probabilmente progressivamente transitiamo per l'interno del museo per essere più veloci ci vediamo su in mostra dove taglieremo il nastro e poi potremo vedere la mostra ci sarà anche un buffet non disperdetevi ma distanziati. Grazie e a presto. Grazie. 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 Grazie.